Questelle è chiamato direttamente in causa da Renzi, guarda le elezioni europee e ammonisce. Non si governa con gli scott. La legge elettorale è in materia parlamentare, verrà discussa nelle commissioni di appartenenza. Il Movimento 5 Stelle è sempre pronto al dialogo, qualora ci siano delle valide cose sulle quali dialogare. Non dimentichiamoci però che oltre alla legge elettorale, in questo momento il decreto urgente nel quale il Parlamento si deve adoperare è il finanziamento pubblico ai partiti.